Forza Ale! Siamo tutti con te, sono con te, lo sai che sono con te da sempre e da quando ci siamo conosciuti praticamente, non ci siamo più mollati perché sei una c***a. Forza Ale! Siamo tutti con te, sono con te, lo sai che sono con te da sempre e da quando ci siamo conosciuti praticamente, non ci siamo più mollati perché sei una persona straordinaria, quindi siamo tutti in attesa. Felicissima di essere qui dal mio amico Alberto Matano, vita in diretta, quindi ci vediamo tra poco con tantissimi argomenti molto attuali, parleremo anche della maturità dei nostri ragazzi, quindi è tra pochissimo. Noi qui stiamo a gioire insieme, l'onora Giorgi, Michele Anderossi per tornata, la mia amica di Stato Andi e Rosana Cancellieri. Andiamo a salutare questa coppia di innamorati. Grazie a tutti.